adab al gab l'adab al gab è il purgatorio dei musulmani dove le anime dei trapassati sono perennemente tormentate da due angeli neri munkir e nekir commento purgatorio inferno paradiso gli stati di coscienza dell'oltre in cui credono le varie religioni spesso coincidono eppure le religioni si avversano ma per la meraviglia della legge proprio avversandosi per differenze inesistenti i fedeli delle varie religioni si scoprono più evoluti